ragazzi adesso stiamo camminando perché giustamente dobbiamo andare a cenare in hotel fanno solo colazioni quindi dove stiamo cenando e chi paga soprattutto allora non lo so io gli ho chiamato una mia amica sono a mania di ragusa non trovo il ristorante dice ma come al Viale Andreadorio ce ne sono tanti e ho detto vieni tu e dammi una mano dice va bene arrivo ma ti dà una mano a scegliere no a pagare hai cenato dice no dice mi stavo accingendo ci si lascia stare tutto e vieni e quindi non mangia e pava aveva mangiato non pagava stavi dicendo se era già mangiato no vabbè ragazzi comunque ci troviamo sempre in Viale Andreadoria la stessa viale del nostro hotel fantastico e Ugonte lo saccio non lo so vediamo se arriva questa amica sua no vabbè se no qua non si cena no vabbè lei penso che si è ricordata di me ma perché da quanto tempo l'ho scartabellata nella rubrica del telefono saluta va saluta va saluta no vabbè